Cari sordi italiani, buon inizio settimana a tutti. Desidero darvi una serie di informazioni relative ai lavori dell'Assemblea Nazionale che si è svolta il 23 e il 24 giugno scorsi. Il clima, da un punto di vista politico, non era disteso. Un clima preoccupante, caratterizzato da un atteggiamento critico di resistenza, che però noi membri dell'Assemblea Nazionale abbiamo affrontato prendendo in esame i diversi problemi che sono emersi. Tali problemi hanno riguardato la gestione amministrativa e i rapporti con lo studio di consulenza fiscale, in primis per la compilazione del nuovo modello di bilancio che l'ENS è tenuto a redigere secondo i criteri previsti dal codice del terzo settore propri degli ETS. Si è discusso a lungo dei problemi e delle criticità di cui eravamo tutti consapevoli e che siamo riusciti a fronteggiare e a superare insieme. Rivolgo il mio personale ringraziamento a tutti i presidenti regionali, ai consiglieri direttivi e alla Presidenza Nazionale, il cui lavoro è stato possibile grazie anche all'attività svolta dall'Organo Centrale di Controllo, dal Revisore Legale dei Conti e dallo studio di consulenza fiscale, i cui componenti hanno preso parte ai lavori assembleari. Insieme abbiamo condiviso e superato le problematiche con l'unico intento di assumere un atteggiamento costruttivo nell'interesse dell'Associazione. Il bilancio consuntivo ENS 2022 è stato condiviso e approvato all'unanimità. Al di là dello slittamento dei tempi, è stato rispettato il termine di legge del 30 giugno, previsto dal Codice del Terzo Settore, per la presentazione del bilancio consuntivo. Ringrazio ancora una volta tutti per il lavoro svolto insieme per il bene dell'ENS. Prossimamente verranno organizzate dirette StreamYard sui canali ufficiali con l'intento di divulgare periodicamente informazioni. Grazie a tutti per avermi seguito. Un saluto.